Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Signor Rennis, se io troverò la sua verifica uguale a quella del suo collega, prenderò gli opportuni provvedimenti, chiaramente. Io non copio mai ho detto, ma guarda mai. Ok, la lezione è finita. È finita! Potete alzarvi, raccogliere le vostre cose perché la lezione è finita. Benissimo, signorina Brixel, venga un secondo gentilmente. Signorina Brixel, cosa succede? Eh, io la matematica sono due cose opposte. Lei qua non ci ha neanche provato, me l'ha consegnata in bianco, in bianco. Prenda il gesso che è di sulla lavagna e mi dica a quale piano si sente. Qua. Facciamo un sogno. Mi faccia un disegno di se stessa alla fine di questo percorso. Eccomi. Addirittura sul tetto. Eh sì. Eh, io farò di tutto. Questa è una ragazza determinata, quindi penso di arrivarci. E allora siamo in due ad affrontare questa scommessa. Io le do la mia mano. E le auguro di fare un ottimo percorso in questo collegio. Grazie. Mi sa che questo sorriso quando uscirà di qua sarà splendente, più ancora di adesso. Grazie. Buona serata. Grazie mille professore, buona serata. Arrivederla. Mi ha trasmesso molta positività e io ho bisogno di positività nella mia vita. Speriamo di arrivare sul tetto, insieme. Che ha bisogno di tanta positività è il signor Cagnes.